Ragazzi prima che inizi il video volevo avvisarvi, anticiparvi una cosa Praticamente mi sono accorto ovviamente alla fine del video quando ho stoppato la registrazione Sono andato a ricontrollare il video, ho visto che praticamente all'inizio andava tutto a scatti Non so per quale motivo, dopo un po' si riprende perché non ho idea del programma cosa abbia fatto Il programma che uso per registrare il pc, quindi i primi tre ragazzi che trovo purtroppo non si capirà praticamente niente Si sentirà solo l'audio e andrà praticamente a scatti in una maniera assurda Due di loro sono riuscito a ritrovarli poi dopo, mi dispiace per un ragazzo che l'ho trovato una volta sola Ed era veramente contento di vedermi, mi dispiace poi non averlo ritrovato dopo Perché veramente va tutto a scatti, però dopo il video va fluido, va normale e si vede bene Mi dispiace per chi non è riuscito a vedermi perché ho sentito e letto che molti non sono riusciti a trovarmi Però ragazzi io sono stato un'ora e dieci, suo amico, le trovavo sempre le solite persone Allora sarà l'orario che era un po' tardi, la prossima volta magari lo farò leggermente prima Sarà stata la sfiga e non sono riuscito a trovare tutti, di questo mi dispiace ragazzi Spero che comunque il video vi piaccia, godetevelo tutto, mi dispiace per quel ragazzo che ho trovato una volta sola Non sono riuscito più a ritrovarlo, si vedrà tutto a scatti però Se stai guardando il video mi dispiace tantissimo Avremo l'occasione in futuro di ritrovarci e ovviamente è una cosa che rifarò Non vi lascio perdere altro tempo ragazzi, vi lascio al video, buona visione Sono le sputacchie, guarda Senti che ci sputi E ciao a tutti ragazzi, sono The Gente, ben ritrovati qui sul mio canale Nel mio canale siamo qui finalmente signori con lo speciale Dei 10.000 iscritti Ve la ricordate che è sempre quella che interrompe quindi non vi meravigliate Siamo con Gabriella Ciao Oh finalmente signore lo speciale suo amico noi siamo abbastanza agitati Abbastanza Siamo abbastanza agitati perché non abbiamo mai fatto una cosa del genere Io sono abbastanza naturale perché una cosa è parlare alla telecamera Sappiamo che la telecamera non parla Ecco, una cosa Infatti però io sono tranquillo, lei è più agitata di me, non capisco il motivo Però ok, io l'ho chiamata apposto perché non volevo stare da sola La prima volta, però no, volevo che stava insieme a me perché sapete gli svariati motivi Niente, prima di iniziare ovviamente vi ringrazio per il traguardo che mai mi sarei aspettato di raggiungere Però prima di iniziare volevo aggiungere una cosa più buonissima Prima, tipo 5 minuti fa, stavamo facendo le prove per vedere se siamo entrati su Omegle Abbiamo messo la telecamera e la webcam per fare delle prove Noi abbiamo scritto un tag a caso Boo abbiamo scritto Come tag e ci è apparso un bambino Biondino Forse con gli occhiali Non mi ricordo di sì Non sappiamo Il problema è che lui ha fatto tipo così Solo è che abbiamo subito chiuso perché era una prova Io per la fretta ho chiuso perché era una prova Quindi bambino biondino Forse con gli occhiali Scusami Spero di ritrovarti adesso Però scusami, non volevo Sei libero di di un parolaccio qui sotto Io vi ringrazio ancora quindi vi lascio al video Poi ci sentiamo magari alla fine E quindi partiamo Non vedrete questa inquadratura Perché noi faremo così e abbiamo il computer È diversa però questa è bella Ci vediamo subito Ok ci siamo Oddio Ok Ok Non credo sia Non credo sia Non credo sia Non credo sia Ciao 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 Parli anche Parli anche Dove io Mamma Parli anche Parli anche Ciao Ciao Mi vedi Oddio C'è qua Sparito Ciao Ciao Non ti sento Ciao Stai calmo Ma c'è già l'iPhone Questo è il mio cellulare Calmo Vedi questo è il mio Tu c'hai l'iPhone Ti faccio una Ok Oh Non ti sento Non ti Non so Allà Allà Non ti sento Vabbè Io ti saluto È stato un piacere Noi andiamo avanti Perché sennò Capito Ciao Chi sei Non ti vedo Ma perché parlo come un cretino Mi sento un idiota Non ho la telecamera Ok ma mi senti Quello è l'importante Basta che mi senti Come ti chiami Perché parlo come un collo Come ti Parlo normale Fabio Ciao Fabio Ciao Ma sei un suo fan Ma mi conosci No sai com'è Perché avevo trovato un chitarrista Che non ci ha inculato per niente Ci hai indicato la canzone Oh tranquillo Un bacio Noi andiamo avanti Perché sei solo il terzo E stiamo a niente ancora Quarto con il chitarrista Ti mando un salutone Certo Dimmi tu la posa Dimmi tu come mi devo mettere Nudo no però Ecco Come vuoi Vabbè Ok dai Ci mettiamo Ma ho ucciso Vai Dimmi quando la fai Così magari ci sblocchiamo Vai Perfetto Grazie Un saluto Ti salutiamo Sei grigio Ma è lui Ciao No non è quello di prima No scolo non è sì No non era biondo Ciao Ciao Mi se Non ti senti Perché non mi sento Mi senti Carino Mi senti Mi se Mi senti Mi se Mi senti Ci senti Non spogliarti Mi se Mi se Rispondi Rispondi Mi senti Amico Mi se Ah Era un sì Mi se Mi senti Mi senti Mi senti Mi senti da prima Sarò un video Tutto mi senti Di nuovo Ciao È quello di prima Ciao Adesso ti sento io Ciao Ciao Noi andiamo avanti Se no non ci sbrighiamo più Perché mi schifano tutti Arresti Arresti Oh Ho sentito uno starvuto a su Mi senti Oh ora ti sento Non ti prende una mazza Larga Larga Mi vedi bene adesso Sta largando come se non ci fosse un domani E facciamola arrivare questo domani Eh Dico Facciamola arrivare questo domani Vai Facci una Dedicami una canzone Vai Sei un grande Sei un grande Vai Ti seguo tutti i giorni Poco fa Grande Grande Ti spaccettare Sei già Ma questo Lo amo No aspetta Lo amo Aspetta Sei bravissimo Ma a me Ligabue Proprio Io si Io amo Ligabue Ma io no Un'ultima domanda Prima di lasciarci Ma I tuoi vicini I tuoi vicini Si lamentano Che tu suoni Ciao Ciao Sei un grande Ciao 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 Mi senti Ho cercato Tanto tempo Addirittura Mi dispiace Calcola che ne abbiamo trovati Due Due volte E tu sei nuovo Vabbè Ciao Tutto a posto Hai un canale Come si chiama Bobo 5 Ok Ok No Bob 05 Bob 05 Bob 5 Non è ieri Ti vengo a vedere un video Te lo giuro Salutami tutti Ciao 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 Che Bella Bella Stavi cadendo Così sto casino Da dove vieni Roma Forza Roma Ci stiamo sfracassando le orecchie Mamma mia Ciao Ciao Ma perché non sentiamo nessuno noi C'è là il microfono Ciao Mi senti Con chi parli Chi è tuo padre Tua madre Uno Chi è uno Ho capito uno Chi è Ti sei anche bloccato Mentre ridi Vabbè Io ti mando un abbraccio Ho visto che ti sei bloccato Un abbraccio Un bacio Salutami quello che ti disturbava Vicino Oh Oh Finalmente avevo trovato qualcuno Aspetta No non mi muovo Non mi minacciare No Come faccio a sapere chi sei Forse è una cosa Sì sono molto vicino a voi Senti In casa siamo solo in due Vicino quanto In che senso Giuseppe Mio cugino Perfetto Ho trovato Ciao Ho trovato mio cugino Non trovo nessun altro Oh Ciao Ciao Oh Fino a essere il primo che sentiamo Che carini Non ti sentiamo Non vi sentiamo Siete fratelli e sorelle Siete fratelli e sorelle Grazie Siete uguali Siete identici Non capisco Di dove siete Ecco che prende in mano le reddini Un saluto Salutate mamma e papà No 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 Come ci dobbiamo mettere Ci dobbiamo mettere Grazie a voi Ciao 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 Mani in alto Non ti sento Non sento nessuno Mi senti? Sì Finalmente Sei il primo Secondo te chi sono? Eeeh Dammi un indizio No Lui è meme No Sono meme Hai visto? Indovina sono un genio Mamma mia Che ne sai tu? Io riconosco gli iscritti miei Non capisce che Bello il ciuffo Io li volevo così i capelli Ma non mi crescevano mai Di dove sei? Monza Ah sei di Milan Già che sei milanese Mi devi dire una cosa Cos'è la cassola? Eeeh Allora È un piatto tipo con Le verde Vabbè A me non piace però Ma è un Una pasta Boh è una cosa strana no? Ci sono due costine Vabbè comunque La cotoletta è buona Un spettacolo come diciamo Non capirò mai il dialetto Vabbè noi andiamo a trovare gli altri Ciao meme Ciao Uela 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 Vediam la coscia bella Chi sei? Distinguiti Fatti vedere Mostrati Escile Hashtag Grazie Magari a vederti Così ti salutavo meglio Giacomo Ciao Giacomo Noi andiamo a trovare gli altri È stato un piacere Ciao Ciao Presentati L'ha visto anche lei Mi chiamo Andrea Ciao Andrea Da dove vieni? Da dove chiami? Da Napoli I am a bell Sono solo quello E da tanto che ci cerchi Dieci minuti Noi ti salutiamo Andrea Grazie 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 Lei dice grazie Le dico grazie Ma tu non hai dieci mila iscritti Sono raffianciata di quello che ne ha Ciao Andrea Non lo troverete mai Mai Non è lui Non è lui Oh Parli Hai la voce Hai la voce Cosa ha detto? Ma aspetta Ma per No non è lui Può essere Che ne sai? Ma per caso ti ho schippato una volta Non lo so forse Da dove vieni? Tu sei Pietro Ecco Lo stavo per dire Perché ho trovato meme Che mi ha detto che mi stava cercando Che mi stavi cercando Calcola che meme Meme l'abbiamo trovato due volte E anche lui l'ho trovato due volte Due volte Ma da quanto sei a cercarci? Tre minuti Tre minuti? Che culo Vabbè ti mandiamo un saluto Grazie Ciao Grazie Vabbè il video finisce qui Noi purtroppo siamo stati un'ora quasi Un'ora e dieci Cercavamo qualcuno di nuovo Ma abbiamo trovato sempre i soli Se qualcuno non è stato trovato Mi dispiace Perché siamo stati veramente tanto tempo A cercare di trovare qualcuno Mi dispiace per il biondino all'inizio Non so se era meme Non ne ho idea Però ho trovato veramente Non tantissima gente Pensavo di trovarne di più Però a me va benissimo così È stato bello scambiare due chiacchiere con voi Per chi ha parlato Perché purtroppo La maggior parte era senza microfono Ecco Ho trovato Un chitarrista con lo spiegatazzo Era fantastico Fantastico Vabbè signori Che dire Non so se il video vi piaccia Spero di sì Io vi ringrazio Ancora una volta Per aver partecipato E per I diecimila iscritti Vi ricordo Che sotto il video D'anticipazione Do vi spiegavo l'orario Vi avevo chiesto di lasciarmi una domanda Per il pack che farò con lei in macchina Quindi se magari non avete Sabato Quindi se magari non mi avete scritto la domanda Me la potete scrivere anche qui sotto Io spero che il video vi sia piaciuto appunto Grazie ancora per i diecimila iscritti Sicuramente più in là lo farò di nuovo Una cosa del genere Perché veramente È una bella sensazione comunque Trovare Trovare qualcuno di voi Scambiare due chiacchiere Per chi ha il microfono Ma anche Per chi ha scritto solo Ciao oddio No vabbè Niente signori Io spero che il video vi sia piaciuto Se volessi che c'è questo mi piace Commentate Condividete Passate dalla mia pagina facebook Dal mio profilo instagram Tutto sotto in descrizione Da The Giant è tutto E Gabriella Aspetta È il mio profilo È la mia pagina Vabbè sì Vabbè passate anche dal suo profilo instagram Sempre qui sotto in descrizione Il video è finito Da The Giant E Gabriella È tutto Noi ci vediamo al prossimo video Grazie ancora Ciao aglio Grazie a tutti